salve a tutti ragazzi ricorderete bene questo video vi ricordate il famoso vaticano quindi video misterioso nella città del vaticano un turista riprende una figura demoniaca nel campanile questa questo era il titolo che avevo messo nel video che ho postato tanto tempo fa e sono arrivati tantissimi commenti ragazzi non è possibile fake non fake ma che figura demoniaca sarà stata una tenta o altro comunque tantissimi commenti sarà il demonio ma un sacco c'è chi crede ancora che bergoglio sia il papa ma veramente tantissimi commenti quindi io non posso dire ragazzi perché comunque guardate bene adesso ingrandiamo qualcuno dice giuseppe ma possibile che questo ha visto il campanile questa figura qua dentro qualcuno ha detto sarà un mantello si ragazzi ma il discorso è un altro chi va a mettere il mantello sul campanile poi in un altro video ancora siccome l'immagine era fatta allo specchio qualcuno aveva detto ma guarda che la scritta perché nel primo video che ho messo la scritta era il contrario e avevano ragione ma adesso sta con la scritta bene quindi adesso ragazzi si vede bene ecco qui ve lo faccio ancora vedere meglio secondo voi che cos'è possibile che uno saliva sul campanile e metteva questa cosa così in mantello qualcuno ha detto vedete avete visto torniamo indietro ragazzi perché ci tengo guardate le campane che si muovono quindi fateci caso la campana si muove perché adesso è un asfizio guardate bene ragazzi la campana si muove ragazzi eccole qui vedi la campana si muove quindi la figura non si è mossa quindi è meglio che lo diciamo prima ecco qui quindi nonostante le campane eccolo qui si stanno muovendo la figura rimane così come quindi io non so dirvi ragazzi sarà un demone sarà una figura demoniaca non lo so ragazzi se lo sapevo lo dicevo in partenza io ho fatto il titolo così perché il primo pensiero che mi è passato è stato proprio quello cioè video misterioso nella città del vaticano un turista perché un turista ha fatto questa ripresa riprende una figura demoniaca perché a me l'impressione ragazzi è quella lì poi non mi dite che vedete un angelo perché un angelo certamente non è quindi ripeto guardate bene le campane si muovono ma questa figura demoniaca non lo so ragazzi che che diavolo sia rimane immobile quindi due sole cose o qualcuno ha fatto un fotomontaggio ragazzi oppure quella cosa che sta lì dentro è una figura demoniaca non lo so come la volete chiamare uno spirito un fantasma come volete chiamare un angelo che ne so per non si è mossa quindi queste sono le due possibilità o è un fake ragazzi oppure quella cosa è reale e stava lì ripeto io ci ho fatto caso a me perché ho detto che voglio analizzare i video meglio guardate le film ecco qua avete visto le campane si muovono ragazzi ma la figura rimane così com'è quindi ragazzi lasciatemi il vostro commento stavolta il video l'abbiamo analizzato bene 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 quindi adesso lasciate il vostro commento non dico quello buono perché anche quelli quegli altri erano buoni però adesso abbiamo visto il video bello sistemato quindi abbiamo visto per bene quindi adesso ditemi ragazzi è reale e fake fotomontaggio demone o altro quindi lasciate il vostro commento e come sempre dico ragazzi al prossimo video ma soprattutto al prossimo mistero e questo qua ragazzi è veramente un mistero che sinceramente guardate le campane non lo so